ciao la più bella esperienza alla vita qual è per te immaginiamo come a scuola no nome cognome tema tema la più bella esperienza alla vita cosa ti sta venendo il benta interessante un bel tema svolgimento cosa scriveresti quante pagine potresti scrivere io ce l'ho la più bella esperienza della vita la più bella esperienza della vita è avere realizzato che la vita eterna e io sono vivo io sono vivo la vita eterna quindi io c'ero ci sono ci sarò io sono pronto a cambiare corpo cambiare dimensione il viaggio continua io sono pronto a vivere adesso e per sempre nell'infinito presente sono pronto sto bene prova a chiederti tu prova anche prendere un foglio scrivere la più bella esperienza della vita ti metti lì scrivi qual è la più bella e non una bella qual è la più bella della vita perché noi sperimentiamo tutto sul piano sensoriale per me la più bella esperienza è avere capito che io c'ero prima del questo corpo che cresceva l'ho realizzato da bambino l'ho già fatto a vedere in un video che avevo 15 anni mi fa piacere farti rivedere questa foto io in quella foto che avevo 15 anni quest'anno 77 avevo realizzato già allora la più bella esperienza della vita avevo capito ricordavo le incarnazioni precedenti ma non è tanto le incarnazioni avevo capito che stavo vivendo delle esperienze e avevo già capito che questa come giorgio cerquetti è l'ultima esperienza all'interno della grande vita eterna l'ultima incarnazione fatta in italia però da quando avevo 15 anni a oggi ho girato bene quattro continenti l'europa america l'africa l'asia conosco bene passato molto tempo con culture completamente diverse i mazai ancora vanno vestiti di rosso saltano ballano indiani d'america esistono esistono gli indiani dell'india sono stato in scandinavia sono stato in inghilterra spagna in turchia afghanistan nepal ognuno c'ha le sue abitudini io che cosa vedevo che sono uno spirito eterno sto visitando il pianeta terra e questo è l'ultimo capitolo del ciclo incarnazioni ma il vero libro si chiama eternità il libro dell'eternità quindi la più bella esperienza della vita è stata reali capire realizzare conoscere e vivere meglio l'eternità allora capisco i dubbi me l'hanno già detto e se poi l'eternità non c'è non c'è ma se tu in una continua dimensione di oblio di dimenticanza per te non ci sarà mai perché muori e ti dimentichi rinasci e ti dimentichi a tante persone che vogliono ricordare le vite precedenti le incarnazioni precedenti ma se non ti ricordi che sei nato la data di nascita che hai imparato a memoria come il nome il cognome che ti hanno dato tu non te lo ricordi hanno visto alcuni psicanalisti che molti ricordano la nascita soprattutto quando è traumatica ma com'è che la maggior parte delle persone non ricorda la nascita qualcuno ricorda ma non sa bene che come descrivere quella situazione altri ricordano e descrivono c'è chi ha avuto ricordi addirittura di quando era nel corpo materno della madre della donna la più bella esperienza della vita l'eternità se non c'è non c'è ma se c'è perché non realizzarlo subito perché non realizzare che stiamo vivendo nel limitato nel fisico i piedi servono per camminare sono persone che quando ragiono dico ah guarda che io ragiono con i piedi per terra ma perché chi è che non ragiona con i piedi per terra ce l'abbiamo tutti i piedi per terra quindi dire sì con i piedi per terra però quando dormi non ce l'hai per terra se dormi sul letto non hai i piedi per terra ma poi cosa vuol dire i piedi per terra noi siamo spiriti eterni siamo esseri eterni siamo oltre l'immaginazione della mente umana perché noi siamo oltre la mente secondo lo yoga secondo l'antica filosofia indiana 7 vortici la mente qua noi siamo qua l'aureola qui c'è un campo energetico quindi fin qua la mente il terzo occhio possiamo immaginare infiniti mondi ma noi siamo oltre possiamo vivere ovunque in qualunque corpo in qualunque dimensione molti si chiedono ma come sono gli alieni se li immaginano più o meno umani umanoidi piccolini alti e biondi grigi verdi però ci sono degli alieni che sono sfere di luce molte queste sfere di luce che non sono astronavi sono esseri viventi che viaggiano girano guardano sfere di luce sono esseri consapevoli che hanno un campo energetico il loro corpo è un campo energetico di luce quindi magari tu guardando di notte hai visto degli esseri che girano poi si materializzano magari con una silhouette umanoid per non spaventarti tu immagina di conoscere varie lingue parli spagnolo sai che al telefono c'è uno spagnolo cosa gli parli turco spagnolo e quello nota ma parli spagnolo bene oppure hai un accento straniero però intanto parli spagnolo quindi questi esseri proiettano una silhouette con il loro potere mentale un angelo in genere sono esseri umani che però se magari hanno una tunica bianca delle luci sono esseri luminosi e poi svaniscono quindi ci sono alieni dalla forma umana e alieni che non hanno la forma umana c'è un'infinità di esseri nell'universo materiale composto da miliardi di galassie all'interno di ogni galassia ci sono miliardi di sistemi planetari e in uno di questi sistemi planetari c'è un pianeta noi piccoli nel pianeta uno non può che può fare il giro del mondo a piedi no sono persone che affogano perché c'è un'onda di due tre metri al mare si chiama mare grosso mare moto quindi qual è la più bella esperienza della vita la più bella esperienza la vita è capire conoscere realizzare l'eternità vivere con una coscienza così elevata che noi viviamo contemporaneamente nell'eternità nel corpo nell'illimitato nel limitato contemporaneamente simultaneamente come se uno va da roma a new york cosa dice ha volato è un altro che non sa che cosa legge ma che c'è le ali no ha volato con l'aereo anzi mentre volavo mangiavo mentre volavo dormivo e mi racconto così fatto 300 anni fa che effetto faceva andate a vedere Enoch e Zechiele che hanno raccontato il loro viaggio su astronavi su nuvole di fuoco su scudi di fuoco raccontavano così e Zechiele e Enoch con l'h finale andate a cercare cosa dicono su internet e come mai questi racconti non sono stati accettati dalle religioni ufficiali perché si capiva benissimo Arjuna personaggio del Mahabharata Mahabharata questo è il libro guardate Mahabharata e Arjuna a un certo punto sale su un'astronave va e che cosa dice sono andato così lontano che non si vedeva più né il sole né la luna quindi ha cambiato sistema stellare perché il sole è una stella che ha dei pianeti quindi è andato fuori dal sistema solare e poi è ritornato quindi prova a fare questa meditazione chiediti qual è la più bella esperienza della vita magari uno dice il matrimonio, la laurea è nato mio figlio va bene io ho condiviso la mia è la realizzazione spirituale che io sono eterno e anche tu sei eterno quindi ti auguro io ti auguro augurati anche tu di realizzare al più presto che oltre ad avere un corpo che cambia ogni giorno noi siamo esseri viventi che non cambiano mai dal punto di vista spirituale siamo sempre stati sempre esistiti scrivi eh tema la più bella esperienza della vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti